Questo, anche se sembra la parte superiore dell'olvino di Android, è la parte superiore del nostro cestino. Esatto. Qui c'è un sensore ultrasuoni. Mettendo la mano qui davanti, un servuto messo qui dentro potrà permettere di aprire il cestino senza neanche toccare. Di un clip ci sono tre red che indicano il livello di riempimento del cestino, che è poco pieno, giallo a metà, rosso pieno. Ecco il cestino con la canzone. I cestini sono fonte di batteri e quindi anche fonte di malattia. Per questo è stato inviato un nuovo cestino con apertura automatica, che ci si posiziona in distanza massima di 30 cm da esso. Il coperchio si aprirà e voi potete buttare il vostro fattume senza portare il cestino. Ci stigro da un tasso. Tutte le storie!